E a parlarci di questo è Dario Giuseppe Airaudo, che è lui, che segue la gestione della fauna selvatica per la regione Piemonte. Normalmente è la terza volta che lo sento, lui fa degli interventi affascinanti perché c'è un animale ogni volta, questa volta, adesso scopriamo chi è, che rappresenta tutto, cioè che rappresenta cosa sta succedendo. Buongiorno, io vi parlerò di lui, che è il Capriolo, e vedete che c'è seconda puntata, perché ne avevo già parlato a Casale Monferrato, ma per chi non c'era non si preoccupi, perché iniziamo con un breve riassunto della prima puntata. Allora, che cosa avevamo visto l'anno scorso? Che in Francia e in Germania si stavano verificando delle situazioni sul Capriolo che non erano proprio del tutto normali. Questo grafico che si vede qua, questi tre grafici, rappresentano il primo, la temperatura primaverile, che come vedete si sta aumentando, l'hanno già detto tutti prima di me. Ma questo cosa comporta? Di nuovo, lo ripetiamo, un anticipo delle fioriture primaverili delle piante. Questo è un problema perché il Capriolo ha un ciclo vitale molto molto rigido, le femmine partoriscono tutte nella seconda metà di maggio e in circa 20 giorni hanno partorito tutte. Non riescono a spostare questo periodo dei parti né in avanti né indietro. E quindi il terzo grafico ci fa vedere una cosa, che il Capriolo, che è quella pallina come se fosse un pendolo, è sempre fermo al suo posto. Le fioriture stanno andando indietro e quindi si crea un disaccoppiamento tra il periodo delle nascite e il periodo della fioritura. Questo perché è importante? Perché le piante in crescita attiva, in fioritura, sono molto ricche di sostanze nutritive. E il Capriolo, soprattutto le femmine, ne hanno bisogno al momento del parto per portare a termine le gravidanze, per iniziare la lattazione, per avere un latte abbastanza ricco da far crescere, da nutrire il cucciolo e farlo crescere nella maniera corretta. Questa situazione abbiamo visto che può portare a due effetti diversi. Il primo, questo caso è proprio quello francese, di una popolazione isolata, cioè una popolazione che vive in un'area confinata da barriere naturali o artificiali, il caso francese erano recinzioni vere e proprie, dove non può spostarsi, non si può allontanare da quell'area. E cosa succede? Che la carenza di nutrienti porta, nel giro di poco, a una caduta mostruosa della popolazione, fino, in casi estremi, a portare all'estinzione di queste specie. Invece in Germania, che i Caprioli non vivono dentro i recinti, come nel caso di studio francese, quindi le popolazioni non sono isolate, si è visto che i Caprioli salivano di quota. Siano passati da una quota media di 1200 metri a una quota media di 1400 metri. Quindi possiamo dire che questo fenomeno di disallineamento delle nascite sta portando i Caprioli a migrare in altre aree per cercare di riallineare il loro periodo dei parti con il periodo delle fioriture, come salendo verso l'alto, perché lì erano le Alpi bavaresi, quindi è naturale andare verso l'alto. Ma a casa nostra? Bene. Per la prima volta riesco a portarvi dei dati nostri a causa di un progetto che con il Capriolo praticamente non c'entra niente, che è il progetto Life Wolf Alps, che parla di lupi. Perché però c'è entrato dentro anche il Capriolo? Perché questo progetto vuole andare a cercare di mitigare il conflitto che c'è, ancestrale, tra uomo e lupo. Abbiamo interrogato tutti i possibili portatori di interesse e i cacciatori sono saltati su, il lupo mangia tutti i Caprioli. E allora cosa abbiamo detto? Per capire quella che in biologia si chiama competizione alimentare, perché tutti mangiano la stessa roba e non ce n'è per tutti, se era proprio vero come andando a studiare non il lupo contro il Capriolo, ma l'uomo contro il Capriolo, cioè cosa succedeva nel mondo della caccia in pratica. Questo studio ha portato a una tesi che vi presento e ringrazio la dottoressa Francesca Gaidu, la tesista che ha fatto due anni di lavoro qua sopra, per avermi permesso di utilizzare i suoi dati. Ma perché questo studio è così interessante? Prima di tutto vediamo dove siamo. Siamo in provincia di Cuneo, in quell'area lì che è praticamente la zona della Valle Pesio e Valle Limitrofe. Qui perché? Perché abbiamo dati sul Capriolo sufficientemente lunghi da poter fare delle ipotesi sensate e anche perché il lupo qua è presente da tantissimi anni. Quindi c'è la possibilità di comparare delle dinamiche di popolazione e di vita di queste due specie in maniera abbastanza, diciamo così, robusta. Allora, cosa vediamo qua? Qua vediamo la linea gialla, quella tratteggiata in nero, è l'andamento dei capi che Regione Piemonte ogni anno autorizza per abbattere i caprioli. Quella sotto, quella rossa e quella tratteggiata un po' più in grigetto, sono i caprioli che effettivamente i cacciatori hanno abbattuto. E come si può vedere, chiaramente, nel 2018 è successo qualcosa, perché la curva è iniziata a scendere bruscamente. Che cosa è successo? Ci siamo chiesti. Allora abbiamo preso il nostro taccuino e abbiamo iniziato a fare un po' di ipotesi. La prima è il lupo, ho mangiato tutto lui. La seconda, ma potrebbero essere attività umane tipo la pastorizia, ad aver in qualche modo influenzato così pesantemente la dinamica del capriolo. Oppure le attività forestali, perché il capriolo è un animale di bosco, quindi anche questo potrebbe aver portato a degli sconvolgimenti. Oppure, anche la caccia potrebbe avere il suo ruolo. Oppure, in ultima analisi, ma questo non è argomento di tesi, si fermava al punto precedente, potrebbero essere i cambiamenti climatici. Allora siamo andati a vagliare ipotesi per ipotesi. La prima, il lupo. Ma potrebbe essere stato il lupo? No, perché il lupo in quella zona si arriva intorno alla metà degli anni 90, nel 92 mi pare. E' cresciuto, cresciuto, cresciuto fino a circa il 2010. Dal 2010 in avanti lo spazio a disposizione per i lupi era finito, e quindi le popolazioni di lupi, i branchi di lupi, si sono stabilizzati. Quindi se fosse stato il lupo, quella decrescita del 2018 avrebbe dovuto iniziare molto prima, perché è arrivato, ha iniziato a mangiare tutto. E quindi lo possiamo ragionevolmente eliminare dalla lista dei sospettati. Il pascolo? Beh, il pascolo in montagna è da quando l'uomo ha domesticato gli animali, che c'è. Quindi anche questo non è probabilmente il problema, anche perché adesso i pascoli in montagna sono gestiti in maniera molto rigorosa per evitare il sovrappascolo. Quindi quella situazione in cui, dopo che sono passate le vacche o le pecore, e uno vuole andare a fare un picnic, si ritrova in una distesa fangosa dove non c'è più un filo d'erba. E in più perché il pascolo montano normalmente viene fatto a delle quote che sono al di fuori di quello che frequenta il capriolo. Quindi andiamo anche a depennare questa ipotesi. Terza ipotesi, la caccia. Ecco cosa vediamo. La caccia, quei numeri che vedete, 300, che in realtà sono circa il 10% di quelli caprioli che sono stati realmente conteggiati all'interno di quell'area. In più il 10% del totale. In più i cacciatori non hanno cacciato tutto quel 10%, quindi è ragionevolmente difficile che l'attività venatoria sia stata così impattante da provocare una decrescita brusca della popolazione. Le attività forestali. Di nuovo in montagna, nei boschi, in taglialegna ci sono sempre stati. Queste attività anche oggi sono regolamentate in maniera estremamente rigida. e in più il taglio del bosco, il diradamento del bosco, apre radure, fa entrare più luce e quindi in teoria dovrebbe essere un fattore che favorisce la crescita della vegetazione e quindi favorire il capriolo, non svantaggiarlo. E quindi neanche questa ragionevolmente è la situazione. Non ci resta il clima che cambia. Cosa ci porta il clima che cambia? Se l'hanno detto prima anche eventi estremi, sempre più frequenti, sempre situazioni fuori stagione anomale. Nel 2018 che cosa è successo? Appunto un evento estremo. A marzo del 2018, se in quella zona lì, nel Cunese in generale, c'è stato un senso fenomeno di gelicidio. Che cosa vuol dire? Pioggia che cade sul terreno gelato o sulle piante, sugli animali, e gela immediatamente formando proprio delle croste vere e proprie di ghiaccio. Potete capire che in una situazione del genere gli animali muoiono assiderati. In più c'era pochissima neve. Gli animali usano la neve come coperta, perché ha un effetto di isolamento termico. Quindi se ci fosse stata più neve, e invece in quell'anno lì neve non ce n'era, probabilmente acquattandosi nella neve avrebbero sopportato molto meglio e molto di più il fenomeno. Però questa tendenza continua nel tempo, perché le linee vanno verso il basso anche nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Nel 2022 un pochettino risale, ma diciamo così spiana, non risale. In realtà, in biologia, in zoologia, quando ci sono queste drastiche cadute di popolazione, normalmente negli anni successivi c'è, se le condizioni sono normali, una rapida ripresa della popolazione, quindi una risalita del numero degli animali. Invece non si sta verificando questa cosa. Quindi potrebbe essere il cambiamento climatico uno degli effetti? Probabilmente sì. Eventi estremi, disaccoppiamento delle nascite con il periodo di fioritura, porta ad avere un brusco calo delle popolazioni. Ma nel lungo periodo, probabilmente ci si mettono anche fattori diversi, attività umane, fauna selvatica, competizione, ad esempio il capriolo va a competere per l'erba con il cervo e le prende sempre. E quindi questi andamenti potrebbero essere immediati da avere degli effetti moltiplicativi. Il clima può moltiplicare un effetto che c'è già in atto, ma è lieve. In più, scusate, urca, sono tornato indietro, scusate. Possiamo tornare indietro i due slide. In più, dobbiamo tenere presente una cosa, che in quel grafico che vi ho fatto vedere, gli animali conteggiati sono conteggiati sempre e comunque nelle stesse aree da circa 20 anni. Quindi questi animali sono scesi. In realtà, in quelle valli, abbiamo messo un sacco di fototrappole segnalate per la privacy, l'animale più fotografato è il capriolo. Non è il lupo, non è il cinghiale, non è il cervo, ma il 40% delle immagini scattate dalle fototrappole sono di caprioli. Quindi c'è venuto il dubbio, ma il capriolo è sparito, oppure sta facendo come sta facendo sulle Alpi Bavaresi, si sta spostando verso l'altro, in altre zone. Probabilmente questa è la risposta più sensata, perché noi stiamo andando con i cacciatori, sempre negli spessi posti da 20 anni, dove 20 anni fa ce n'erano tanti, ma adesso non ci sono più. Dove sono? Probabilmente sono da un'altra parte. La cosa paradossale che stiamo vedendo è che probabilmente a primavera seguono la fioritura, quindi stanno in bassa valle durante l'inverno, poi mano a mano che l'erba fiorisce vanno sempre più in alto, ma poi in estate, ad agosto, settembre, i caprioli si ritrovano esattamente dove i cacciatori si pensano che siano, perché il numero di animali cacciati, quelli che avete visto lì nella linea rossa, li prendono in un mese solo di caccia e non in quattro, e questo è un altro sospetto che ci lascia dire che i caprioli ci sono, perché meno animali faccio più fatica a trovarli, e quindi ci metto più tempo a trovare un capriolo e ad abbatterlo. E in più, esattamente negli stessi posti in cui hanno abbattuto i caprioli dal 2000 all'in avanti. Quindi probabilmente il capriolo di quella zona della Valle Pesio ha un movimento, diciamo così, transumante. Segue la crescita, l'innalzamento della fioritura in primavera, quindi insegue mano a mano che la neve si scioglie, le piante fioriscono, loro la inseguono per avere le sostanze nutritive, per rimettersi in quadro dopo l'inverno, accumulare grassi, nutrire i piccoli e tutto, però poi a un certo momento c'è qualcosa che li rispinge verso il basso. E che cos'è questo qualcosa? È il periodo riproduttivo. I maschi del capriolo sono territoriali, i territori sono sempre praticamente quelli e le femmine devono andare dai maschi per accoppiarsi. Quindi si assiste a questo movimento, su e giù, su e giù. Questo è un problema perché questo movimento implica energia, implica il fatto che siano più esposti a rischi di predazione, a rischi di incidenti stradali, un sacco di cose. E spiega il perché un evento traumatico come il gelicidio del 2018 ha portato degli effetti molto lunghi negli anni successivi. È così drammatici che la popolazione non riesce più a riprendersi dal trauma del 2018, nel senso non riesce più a salire di numero. Io con questo ho finito. Il capriolo se lo troviamo... Dov'è? Eccolo qua. Il capriolo vi ringrazia per l'attenzione e spero di essere stato interessante. e spero di essere stato interessante.